ciao bimbi come state cosa fate di bello io oggi ho fatto tutte queste cosine tutti questi lavoretti in occasione della pasqua ma non li ho fatti soltanto per me per abbellire la mia casetta ma anche per voi così magari anche voi dopo aver visto questo video possiate farli a casa con i vostri genitori con i vostri fratellini e abbellire anche voi la vostra casetta scusate se non ho fatto questi lavoretti insieme a voi ma sarebbe venuto un video troppo lungo e magari vi sareste annoiati e scocciati di guardarlo infatti proprio per questo che adesso ve li vado ad illustrare buona visione partiamo con il primo allora questo qui è davvero semplice da realizzare perché è stato realizzato semplicemente con un piatto di plastica dell'ovatta il cartone sul quale ho disegnato il mio pulcino con i colori giallo arancione e nero e poi ovviamente forbice colla mi sono serviti e poi un nastro che poi ho fatto diventare fiocchetto ed ecco qui che ho realizzato questo simpatico lavoretto che potete appendere davanti all'ingresso davanti alla porta principale della vostra casa davanti alla porta della cameretta o dove volete poi ho realizzato tutti questi altri simpatici lavoretti e allora se volete ve l'illustro qui abbiamo un semplice ovetto ovo di pasqua realizzato con del cartone sì proprio sul cartone ho disegnato il mio ovetto di pasqua vi dico la verità sul cartone di carta igienica e poi l'ho colorato con questi colori qui sempre su un cartone di carta igienica su un rotolo ho disegnato un bel pulcino sempre con il nostro rotolo di carta igienica ho disegnato un ovetto con questi fantastici colori poi l'ho colorato un uovo di pasqua c'è scritto kinder e poi ancora un altro uovo di pasqua questa volta con questo bel fiocchetto blu e con queste palline tutte colorate guardate che bello poi ho disegnato un simpatico coniglietto vi dico la verità però è un coniglietto pecorella perché potete chiamarlo sia coniglietto che pecorella perché come notate sembra anche una pecorella sono sempre andata a disegnarlo sul mio rotolo di carta igienica però ci ho incollato sopra dell'ovatta vedete quanto è carino poi ancora ho disegnato sempre sul mio rotolo di carta igienica questo fantastico pulcino guardate quanto è tenero poi siccome cari bimbi io avevo delle uova che ho utilizzato oggi per cucinare mi sono rimasti i gusci cosa ho fatto non li ho buttati ma bensì li ho colorati di arancione ed è guardate qui che bello allora ho colorato questo bel guscio di arancione con il colore a spirito e bimbi potete farlo perché si colora all'interno ci ho messo un po dovatta e cosa ci ho messo poi all'interno del guscio questo simpatico pulcino ecco qui vi faccio vedere tutto per intero ecco qui il pulcino che esce dal guscio dell'uovo ancora sempre con un guscio colorato d'arancione ci ho messo quest'altro simpatico pulcino all'interno poi quest'altro simpatico pulcino come vedete sono tutti un po diversi sempre dentro al guscio messo lo vatta e il guscio colorato d'arancione guardate che belli poi ho disegnato e colorato quest'altro pulcino sempre sul rotolo di carta igienica ma i contorni gli occhi sono fatti con colori a spirito all'interno invece è colorato con i gessetti poi sono andata a realizzare due piccole due piccoli cioccolatini e poi infine cari bimbi ma davvero non è non è il più brutto ma ve lo voglio descrivere per ultimo perché ci vuole un po di più perché cosa ho fatto avevo delle bottigliette tante bottigliette bimbi questa in particolare mi piaceva perché non ha nessuna scritta sopra e quindi l'ho utilizzata per crearci qualcosa di simpatico allora prima di tutto ci ho messo un bellissimo tappo rosso che più o meno magari può richiamare la pasqua poi su un foglio di quaderno sono andata a scrivere buona pasqua 2020 come vedete e sono andato appunto ad incollarlo sulla bottiglia poi ho incollato sulla bottiglia anche queste palline di ovatta poi ho incollato la bottiglia su questa bellissima stoffa che era di un uovo di pasqua che avevo da tanto tempo e all'interno della bottiglia cosa ho messo l'ovatta e poi dentro non so se si vedono ho messo tantissime palline colorate per far finta che siano dei cioccolatini e tantissimi cuoricini poi ci ho fatto un simpatico pulcino da una parte e qui invece un simpatico coniglietto forse non si vedrà bene all'interno della bottiglietta mi rendo conto perché magari non riesco a riprendere tutto alla perfezione però spero di aver reso l'idea così magari potete realizzare questi semplici lavoretti con tutti i vostri familiari e divertirvi tanto in occasione di questa pasqua allora io ho messo questi lavoretti più piccolini in questa cesta che avevo molto bella e non so se li lascerò qui o metterò tutti questi lavoretti un po sparsi per casa non lo so ma comunque sicuramente saranno oggetto sia questi che altri lavoretti che avete visto in altri video oggetto di decorazione della mia casa in occasione della pasqua e questo video è stato fatto soprattutto per voi guardate i pulcini adesso sono un po' distesi forse hanno sonno quindi vi lascio che già ho parlato tanto e vi mando un bacione ciao cari bimbi